Una forte scossa di terremoto è stata registrata a Napoli con magnitudo 3.6 con epicentro zona solfatara ad avvertire sisma a moltissimi cittadini dal quartiere napoletano di Fuorigrotta, Pozzuoli. Secondo i dati degli NGV il sisma ha avuto profondità di 2.7 km. Per questa ragione ha creato veri momenti di paura per chi abita nella zona. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone. Grazie a tutti.